Adesso vi faccio vedere come disinfetterò un po' il frigo prima di riempire con un po' di cose perché ho già fatto la spesa stamattina, ok? Prima di accenderlo. Sì, ok. Userò questo qua per igienizzare il frigo, ok? Con le belle stracce. Vediamo. Qua è la parte del frigo, tutto frigo. Visto? E qua è la parte del congelatore. E qua, spiega? Questa parte fa cosa? Giaccia acqua. Adesso andiamo a disinfettare. Stacchiamo la plastica, disinfettiamo. Questa parte. Ecco che comincio a distruggere il frigo. Questa. Via, mettiamo via. Mamma mia. Ok, adesso dobbiamo tornare le scotch. Adesso. lo rompo bene. Sai che sono un po'... sono un disastro io. Sono un disastro, lo sai. Ok, abbiamo eliminato lo scotch, tutto interno. Adesso facciamo quello esterno. adesso andiamo a disinfettare un po' non? Tantissimo, solo un po' dai, ok? Ho il secchio d'acqua. Non sul vetro. Eh, Gesù, mi ha detto non sul vetro. Stai insegnando a me? Come pulire adesso? Torni l'adesivo. Veloce. Ancora costa l'adesivo. Lascialo là. Mamma mia, sono una roba. Cominciamo da interno. Sono una roba velocissima. Disinfettare un po'. So che forse non serve, ma faccio lo stesso. So che forse non serve, ma faccio lo stesso. Con questo asciughi subito. E non ti lascia nessuna. La scensione del nostro frigo. 3, 2, 1. Ti sta chiamando? Dobbiamo collegarlo alla rete wifi anche. Pure? Sì. Apri e chiude. Apri il frigo? Ah, ecco la luce che aspettavamo. Puoi fare il toc toc? Oh, che bello. Che bello. Che bello. Il frigo è vuoto. Vediamo che il frigo è vuoto. Si affrenta. Giù? Sì. Ah! Sì. 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 Sì.